Amici di MoltoFood, che ne dite di fare dei ravioli fatti in casa insieme? Ogni 100 grammi di farina di semola aggiungiamo un uovo. Mescoliamo tutto creando un composto omogeneo e lo facciamo riposare in frigo per circa un'oretta. Creiamo i nostri ripieni. Il primo lo faremo con spinaci e ricotta, il secondo con funghi porcini, ricotta e cannella. Tagliamo gli accubetti e saltiamoli in padella separatamente. Ora aggiungiamo la ricotta e condiamola. Stendiamo la nostra pasta, facciamo delle forme e andiamo a farcire il tutto. Togliamo l'aria e stampiamo. Ravioli fatti in casa solo per numero uno. Bop bu! Bop bu!